3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, scarna! 3, 2, 1, vai! Quarto, quarto, io arrivo primo, tu arrivi quarto! Adesso ti tiro pure il discorso in faccia! E ti scatenzi sulla trassa! Votazione del pubblico mentre la giuria decide! Ha iniziato l'Uterburu, al mio 3 per lui, 1, 2, 3! Al mio 3 per Scarna, 1, 2, 3! Il pubblico è stato chiaro, la giuria? La giuria? L'Uterburu! Ok, torno a L'Uterburu! Applauso per Scarna, saluto! E' un esportivo!